Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Lo hanno infatti ripetuto il ministro Busetti e anche altri esponenti del governo. Come tutti sanno però già ora in tutte le scuole argomenti come il funzionamento del Parlamento e diritti e doveri fondamentali dei cittadini sono ampiamente trattati. Se però l'educazione civica fosse una disciplina a sé stante, ci sarebbe un docente incaricato ad insegnarla e ci sarebbe anche un voto apposito. Per alcuni sarebbe un fatto molto positivo perché in tal modo verrebbe messa in evidenza l'importanza della disciplina. Ma c'è da dire che in tal modo si perderebbe di vista anche il fatto che l'educazione civica non può limitarsi ad un elenco di conoscenze. Per essere un buon cittadino infatti non basta conoscere le regole, bisogna anche saperle mettere in pratica. Ed ecco che così c'è chi difende l'impianto attuale che attribuisce all'intero Consiglio di classe la responsabilità di occuparsi degli apprendimenti di cittadinanza e costituzione. Insomma il dibattito è ampiamente aperto.